e dunque in attesa dell'ufficialità sembra ormai fatta e sembra che l'Aumberto Zauli verrà promosso dalla squadra primavera alla under 23 e ciò insomma muoverebbe ancora un bel po' di pedine perché il gioco di parole sembra sempre che pedone possa andare a primavera perché comunque mancherebbe sempre un allenatore insomma e dunque Zauli va all'under 23 e in primavera potrebbe andarci pedone scelta a mio modo di vedere giusta perché comunque molti dei giocatori dell'under 23 di quest'anno saranno giocatori che verranno promossi dalla primavera e proprio per questo motivo Zauli ci ha già lavorato un anno e ci sta mettere lì un nome a caso tanto per fare un esempio Gilardino sinceramente poteva essere secondo me deleterio e mi trovo d'accordo con la scelta di Lamberto Zauli con tutti i dubbi del caso perché comunque Zauli non ha affatto delle bellissime ha affatto alternato partite bellissime a partite pessime l'anno scorso la primavera basta vedere come siamo usciti ancora al Madrid però c'è da dire che è il risultato più alto della storia della Juve quindi staremo a vedere curiosità e aspettiamo l'ufficialità ovviamente perché penso che serva l'ufficialità anche perché dobbiamo capire aspettiamo di avere l'ufficialità anche di avere il mister per la primavera non mi stupirebbe di vedere pedone anche perché pedone sinceramente ha fatto veramente bene in questi due anni con l'under 17 e non ha vinto il campionato due anni fa l'anno scorso quest'anno appena finito l'avrebbe probabilmente vinto perché aveva vinto finora tutte le partite e ha vinto la future cup che è la ciliegina del settore giovanile negli ultimi mesi insomma perché assolutamente è stata veramente una cosa pesante insomma vincere la future cup ad Amsterdam e negli ultimi anni credo che il settore giovanile sia stato il momento più alto e niente ragazzi io chiudo qua il video e aspettiamo le ufficialità a me non resta di salutarvi dal mio appuntamento più prossimo del canale ciao a tutti